Un tappeto di fiori per salutare le processioni dedicate al Corpus Domini. Come ogni anno, anche sulla Piana e sulle Colline Lucchesi, in molte parrocchie si è rinnovata domenica la tradizione dei tappeti fioriti. Qui siamo a Capannori, alla parrocchia di San Quirico e Giulitta, dove insieme ai ragazzi adulti dei gruppi locali hanno lavorato per ore sotto il sole cuocente per dare vita a una lunga serie di disegni e rappresentazioni. Una distesa fiorita lungo tutta la piazza del paese che ha reso suggestiva la giornata dedicata alle comunioni. Stesso lavoro dei volontari, ma contesto diverso, a Marlia. Siamo infatti nel giardino di Casa Gori, struttura che accoglie in parte servizi sociosanitari, in parte volontari che assistono anziani del centro di urno e notturno. Anche in questo caso, a farla da padrone sono stati i colori dei fiori scelti per accogliere l'arrivo del Corpus Domini portato in processione da Marlia.